ragazzi di arance rosse oggi facciamo cacio e pepe con mezzi rigatoni a modo mio ci vediamo tra poco un bacio quindi ragazzi cosa ci metto mezzi rigatoni ovviamente di gragnano e qua abbiamo il pecorino romano con un cucchiaino di pepe ragazzi l'acqua bolle buttiamo un pochino di sale ma non troppo sono diventa salato e buttiamo i nostri mezzi rigatoni ragazzi l'acqua continua a cuocere ora facciamo tostare il nostro pepe facciamolo solare il nostro pepe ora che cosa facciamo prendiamo un pochino l'acqua della cottura e lo mettiamo qui dentro ora cosa facciamo ragazzi buttiamo un pochino d'acqua e cerchiamo creare scusate cerchiamo di creare la cremina e la facciamo girare piano piano finché che non si crea una crema vedete ragazzi sta creando una bellissima cremina guardate che bella bellissima bellissima meravigliosa la cremina di cacio e pepe la cremina di ferdinando esposito bellissima allora ragazzi ora cosa facciamo buttiamo i nostri mezzi rigatoni immergiamo ci mettiamo tutti 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 poi vi faccio vedere cosa succede mettiamo un pochino di acqua della cottura facciamo la pasta non tantissimo cruda ma così facciamo in modo da farli risottare con tutto il pepe stiamo facendo risottare facciamo risottare la nostra pasta ragazzi stiamo risottare tra un pochino buttiamo la nostra cremina buttiamo ragazzi la nostra bellissima cremina buttiamola buttiamola tutta vi faccio vedere ora che cosa uscirà vi faccio vedere buttiamo un altro pochino di acqua nella cottura siamo un pochino la fiamma leggermente vedete ragazzi sta diventando crema bravo 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 ragazzi ecco la mia cacio e pepe bellissima ragazzi bellissima meravigliosa la mia cacio e pepe ragazzi ci vediamo al prossimo video seguite arance rosse su tik tok su facebook iscrivetevi al canale se vi facciamo simpatia e carlo su facebook su tutti i social ci vediamo al prossimo video grazie che ci seguite lo apprezziamo tanto o siete pochi o siete in tanti vi ringraziamo veramente troppo gentili alla prossima ragazzi andiamo all'impiattamento meraviglioso ragazzi andiamo all'impiattamento ok aspettate ci mettiamo un pochino ci mettiamo un pochino di cremina sulla pasta trovo perché a me piace bella cremosa quasi quasi porno